Andiamo a Ronchi dei Legionari, la salma di Graziano Capello viene rimpatriata, la Grecia ha dato infatti l'ok. Potrebbero essere celebrati la prossima settimana nella chiesa di San Lorenzo a Ronchi dei Legionari i funerali di Graziano Capello, il 63enne insegnante di educazione fisica morto a causa di un malore mentre si trovava in vacanza a Salonico. Nelle notizie emerse ieri da persone vicine alla famiglia, sembra ormai deciso che da parte delle autorità greche non ci sarà nessuna autopsia sul corpo dell'uomo. Molto conosciuto nell'ambiente sportivo e stimato ad agente di educazione fisica al Max Faviani di Trieste. Le cause della morte sarebbero evidenti e riconducibili proprio ad un malore fatale che non ha lasciato scampo alla seppur forte fibre di capello. Le autorità elleniche avrebbero concesso o starebbero per concedere in queste ore tutti i necessari nulla osta per il trasporto della salma in Italia e anche ieri mattina sono stati frequenti i contatti tra l'agenzia di pompe funebri incaricata a seguire le operazioni e il servizio necroscopico del comune. In Grecia intanto sono arrivate la moglie Giulia e il figlio Francesco, mentre l'altra figlia Silvia è rimasta accanto all'anziana madre di Graziano Capello. Si ricostruiscono le ultime ore di vita dell'insegnante ronchese che da qualche giorno si trovava a Salonico a casa di amici di lunga data. Sembra che nella tarda mattinata Capello abbia accusato un malore e che non se ne voleva andare. La moglie del suo amico, che è un medico, avrebbe consigliato a Capello di sottoporsi ad una visita in una clinica della città. Qui gli sarebbe stato effettuato prima un elettrocardiogramma e successivamente un'attacca, delle quali sarebbe avvenuta a galla tutta la gravità della situazione. Dunque ricorso alla sala operatorio, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Quando un turista, usando la mappa offerta in internet da Google, cerca la città di Gorizia, non trova i fiumi Isonzo e Vipacco in lingua italiana, neppure nel loro tratto di percorrenza in Italia, bensì solo in lingua slovenia. E questo accade anche cercando direttamente i due fiumi. E questa è l'ultima denuncia di Rodolfo Ziverna, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che sulla questione ha sollevato una interrogazione alla giunta regionale affinché sia formalmente chiesto al motore di ricerca Google la correzione di nomi Soca e Vipava, rispettivamente Inisozo e Vipacco, quando i due fiumi percorrono il territorio italiano. Soprattutto per i fatti legati al dramma della Grande Guerra, sottolinea lo stesso Ziverna, è di estrema importanza che la mappa riporti correttamente in lingua italiana i loro nomi, anche perché la denominazione in lingua slovena oggettivamente non è conosciuta in Italia ed Europa e ciò degenera disagi e incertezze. E ora parliamo invece di telesoccorso, ben 26.000 gli allarmi ogni mese nella regione. Compie 23 anni lo storico servizio gratuito di telesoccorso, attivo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, che la regione Friuli-Venezia-Giulia, attraverso Televita, garantisce dal 1992 e che attualmente supera i 7.000 assistiti, gestendo ogni mese 22.000 chiamate di telecontatto o telecompagnia, 26.000 allarmi, richieste di aiuto di vario tipo e 450 emergenze, di cui quasi la metà di tipo sanitario. Malori, cadute, incidenti o incidenti domestici. La teleassistenza, ha spiegato l'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca, è un servizio a bassa soglia e a sostegno della domiciliarità. Attualmente, prosegue, con sicuri a casa vengono assistiti circa 3.700 anziani o adulti portatori di fragilità socio-sanitarie, che hanno la possibilità di inviare in maniera semplice e immediata una richiesta di aiuto ad una centrale operativa che, una volta ricevuto l'allarme, attiva le forme di soccorso più adeguate. Il servizio consiste in una centralina collegata alla linea telefonica e un pulsante indossabile al collo o al polso, da schiacciare in caso di emergenza. Chi non possiede la linea fissa può avere in dotazione un cellulare con pulsante di soccorso incorporato. In caso di emergenza, il servizio prevede l'intervento a domicilio di operatori formati al primo soccorso, con esiti spesso decisivi. Ciò, evidenziato Telesca, è reso possibile dalla custodia chiavi, facoltativa e garantita dalla soggetto gestore nei capoluoghi di provincia. Con le nuove tecnologie, ha aggiunto l'assessore, la teleassistenza può essere abbinata alla domotica, fornendo dei sensori che rilevano anomalie ambientali quali fughe di gas, incendi ed allagamenti ed inviano automaticamente un alert alla centrale operativa. La teleassistenza non serve solo a gestire le emergenze sanitarie, sociali e psicologiche, ma prevede una serie di prestazioni aggiuntive, tra cui un servizio attivo di telecompagnia volto a contrastare l'isolamento sociale e la consegna farmace a domicilio, pensata per facilitare l'esistenza delle persone sole. Nell'80% dei casi, riferisce ancora Telesca, le emergenze sanitarie vengono gestite senza produrre ricoveri ospedalieri, grazie al tempestivo intervento del personale addetto a vantaggio della persona assistita e del sistema pubblico, che evita interventi impropri e razionalizza la spesa. Comento positivo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Diego Moretti al lavoro svolto dalla Giunta Serochiani sui temi importanti, quelli appunto dell'accoglienza degli extracomunitari e della sanità, in replica così anche ad alcuni recenti attacchi all'operato proprio dell'esecutivo regionale. Per quanto riguarda gli immigrati, ammette l'esponente democratico, siamo certamente in soprannumero, ma i presidenti di Veneto e Lombardia hanno fatto l'esatto opposto di quello avrebbe dovuto fare un buon amministratore non rispettando, dice lo stesso Moretti, quanto deciso a livello nazionale con lo Stato e le regioni. In Veneto e Lombardia non solo fanno finta che il problema non esista, ma minacciano addirittura i sindaci e i prefetti che rispettano la legge. Parlando di salute ed enti locali, Moretti aggiunge che sono temi dove abbiamo messo mano al concoraggio dopo anni di mancate scelte che hanno provocato difficoltà nella gestione non certo imputabile a questa amministrazione che invece sta dando sostenibilità economica al sistema sanitario e agli enti locali. Parliamo adesso dell'ennesimo pugno nello stomaco all'amministrazione dei cittadini di Trieste, così viene ribadito, ma sentiamo il tutto nel servizio. L'ennesimo pugno nello stomaco di questa amministrazione ai cittadini. Il candidato sindaco e segregatario provinciale della Lega Nord commenta con queste parole i dati sull'Atari che pongono il capoluogo giuliano al primo posto tra le principali città del Friuli, Venezia e Giulia. I numeri evidenziati generano automaticamente degli interrogativi ai quali il comune dovrebbe rispondere in nome della trasparenza sull'impiego delle risorse pubbliche. Come mai smaltire i rifiuti a Trieste costa il doppio rispetto a Udine? Visto che costa così tanto, perché la nostra città versa in condizioni indecorose quando ha pulizia di strade e marciapiedi? E ancora, insiste il candidato sindaco, per quale motivo Pordenone e Gorizia riescono ad abbassare la pressione fiscale in percentuale quasi tripla di Trieste? La verità riassume l'esponente leghista è che, a dispetto dei tanti troppi proclami della giunta uscente, i risultati di quattro anni di amministrazione a guida PD sono fallimentari. Evidentemente non bastava lasciare risolti o peggiorati un mare di problemi, la ferriera che continua a inquinare, il numero crescente di esercizi commerciali che abbassano per sempre le saracinesche, l'incremento del tasso di disoccupazione, l'immigrazione incontrollata e i conseguenti problemi di sicurezza, solo per citarne alcuni. Ma la sinistra voleva fare di più, impoverendo ulteriormente i triestini. Solo così si spiegano infatti la recentissima decisione di aumentare il numero di parcheggi a pagamento e la notizia dell'incapacità, o peggio, della mancata volontà di questa amministrazione di ridurre l'Atari. Triestini, tenete duro, questo è l'appello finale di Roberti. Sia per voi elemento di consolazione il fatto che il sindaco uscente e i suoi collaboratori, tra pochi mesi, non potranno più fare danni. Il Comune di Trieste informa che condizioni meteorologiche permettendo dal lunedì 24 a venerdì 28 con orario notturno dalle 20 alle 6 saranno eseguiti i lavori alla segnalitica stradale orizzontale nelle zone del centro cittadino tra vie Gatteri, Polonio, Brunner, Parduina, Timeus, Nordio, Toro, Crispi, Ginnastica, Slataper, Stuparic, Largo, Santorio, Piazza Ospitale e ancora nelle vie Tarabocchia, Fonderia, San Maurizio, Foschiatti, Pietà, Vidali, Caccia, Foscolo, Pascoli, Parini, Dazzeglio, Cavalli, Veceglio, Canova, Alfieri e Largo, Nicolini. Opportune segnalazioni e adeguati accorgimenti saranno comunque predisposti proprio in prossimità dei luoghi interessanti dai lavori. Allora ci fermiamo qui adesso con le notizie di Treste e Gorizia, ci ritroviamo con le altre nella prossima parte appunto del telegiornale. Rimanete con noi e ancora buona serata con Teleantenna.